Gentili telespettatori, buona giornata. Schlein contro Meloni. Ma dai! Ma veramente? Ma non avrei mai immaginato. Dice il soffitto di cristallo non è stato abbattuto perché sei arrivata tu. Bisogna battersi ogni giorno per le donne. Ma Schlein, cosa dovrebbe fare questa Meloni ogni giorno che si sveglia per le donne? Che deve fare? Eh? Spiegacelo tu. Che cosa dovrebbe fare questa Meloni ogni giorno, ogni giorno per le donne? Boh, ma probabilmente non lo sa neanche lei. Provate a chiedere a Schlein. Se lei fosse premier, cosa farebbe ogni giorno per le donne? Mi immagino le risposte sarebbero tutte da ridere, però bisognerebbe chiederglielo. Allora lei riparte col solito elenco delle malefatte di questo governo. Una manovra iniqua e senza futuro. Perché una manovra deve avere un futuro? No, chiedo così per un amico. Iniqua, cosa vuol dire iniqua? È una manovra che colpisce le pensioni e taglia i servizi. Allora, è una manovra che taglia i servizi? Non so dove l'ha letto. È una manovra che colpisce le pensioni? Sì, questo è vero. Sono felice del lavoro fatti insieme sugli emendamenti per la sanità pubblica. Quindi la Schlein ha lavorato insieme alla Meloni per fare delle modifiche sulla sanità pubblica. Non lo sapevo. È la prima volta che lo sento. Adesso so che la Meloni e la Schlein hanno fatto qualcosa sulla sanità nella manovra. Non lo sapevo. Poi magari ci spiegheranno nel dettaglio che cosa hanno deciso sulla sanità perché non lo so. Una manovra che colpisce le donne e Giorgia Meloni lo sa. Giorgia lo sai, lo sai che Luca si bu... Ancora? Vabbè, quindi la manovra colpisce le donne e Giorgia Meloni lo sa. Eh? Colpisce le donne la manovra? Perché? Forse perché nell'ambito pensionistico è stato tolto qualche privilegio. Ma scusi Schlein, ma la parità di genere deve essere parità anche nelle pensioni. Scusate, eh? Se mi intrometto, chiedo per un amico, perché la donna deve andare in pensione prima dell'uomo? Non siamo tutti uguali? La Schlein, Elena, ci insegna che siamo tutti uguali, che è giusto, ci mancherebbe altro. Sono il primo a dirvi che siamo tutti uguali, almeno in Italia. Poi fuori il mondo è uno schifo che manco mi immaginate. Mamma mia, il mondo è un posto terribile, medioevale. Terribile. Quello che stiamo vedendo in questi mesi, più quello che non vediamo, è qualcosa di terribile. Quindi siamo anche fortunati a essere nati in Italia, eh? Rendiamoci conto, siamo stati tutti fortunati, eh? Ma, vorremmo chiedere ad Elena, dove sarebbero state colpite le donne? Sulle pensioni? Eh, ma siamo tutti uguali? Se siamo tutti uguali, come io auspico, dobbiamo andare in pensione tutti alla stessa età. Non è che ci devono essere favoritismi? Ci sono esseri umani di serie A e di serie B? Il genere maschile di serie B? Beh, l'idea oggi è un po' quella, eh? Che il maschio sia di serie B. Vabbè. Campionato di calcio di serie B. Va bene. Andiamo avanti. Poi dice sempre Elena E noi, accanto a quella sul salario minimo, facciamo anche una battaglia per l'emancipazione economica delle donne. Su questo sono anche d'accordo. Uno stipendio, lo stipendio di una donna deve essere esattamente uguale a quello di un uomo. E poi dice Noi dobbiamo sostenere l'occupazione femminile Per la redistribuzione del carico di cura delle famiglie. Approviamo un congedo paritario di almeno 5 mesi retribuito al 100% per entrambi i genitori Che non sia trasferibile tra di loro. Beh, caspiterina Tu hai un figlio e stai a casa tutti e due 5 mesi E le aziende come vanno avanti? Vabbè, comunque Va bene i diritti, sono convinto Però 5 mesi, due persone a casa dal lavoro e pagate il 100% dello stipendio Mettetevi nei panni di un imprenditore O anche voi stessi che aprite un negozio E assumete una commessa o un commesso E magari sono marito e moglie E poi per 5 mesi tu li paghi e stanno a casa e tu fallisci Insomma Bisognerebbe pensare anche a tutte le cose che succedono Quando fai una proposta E lei dice Però questo noi lo diciamo a una premier donna Bisogna battersi per le altre donne Il soffitto di cristallo non si abbatte da solo Non si rompe perché sei arrivata tu Se le altre donne del paese non arrivano neanche a vederlo Il soffitto di cristallo Sì, hai ragione Però che dovrebbe fare questa Meloni? Che dovrebbe fare? Io direi che già la società sta cambiando Almeno in Italia Perché il mondo fa schifo Ma in Italia la società sta cambiando Guardate che siamo passati Dagli anni 50 Dove si diceva spesso nella società patriarcale Tu stai zitta e fai quello che dico io Perché io sono il capofamiglia Siamo passati a oggi Che le cose sono diverse Le cose sono cambiate Stanno continuando a cambiare Pertanto La cultura Non è che la cambi con una legge La cultura non è che la cambi con una manifestazione La cultura Il modo di comportarsi E di pensare di un popolo Lo cambi Piano piano Non perché devi andare piano Per forza Dici no, lo voglio fare piano Perché non lo puoi cambiare Dall'oggi al domani Non puoi cambiare Una cultura Che deriva Dal patriarcato E da un forte maschilismo Non è che la puoi cambiare In settimana Giovedì faccio una legge Venerdì L'Italia è diversa Non proprio Anzi per nulla Però bisogna fare Tante piccole cose Piccole grandi cose Che porteranno A un continuo cambio In Italia Poi parlando anche In termini generali Attenzione che i cambi Spesso O volentieri Ti portano da tutt'altra parte No? Tu vuoi riequilibrare Una situazione La situazione Poi ti cade Dall'altra parte E attenzione che Vabbè Grazie a tutti E arrivederci a presto